Ciao a tutti, oggi facciamo l'analisi di TXT. Il 27 marzo avevo già fatto l'analisi di questa azienda e puoi rivedere il video sul mio canale YouTube. Rispetto a quel video abbiamo il bilancio del 2017. Ad oggi questa società sembra un'altra perché ha degli utili netti sui fatturati che sono cresciuti del 1544% rispetto al 2014. Di conseguenza ha creato una media di rapporto debito utile ben al di sotto dell'1, un dividendo stellare di circa il 9%, una media di asset correnti e a lungo termine molto alti, una media di utili netti sui fatturati altissima e dei flussi di cassa finalmente positivi dopo anni che li chiudeva in perdita. Tutto questo però grazie ad un evento non ricorrente, più precisamente grazie a un'attività in dismissione, quindi per chi avesse questa società ha poco di cui crogiolarsi. Prima di ridare una mia opinione vorrei vedere i bilanci dell'anno prossimo. Ora se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione e ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!